Sono le 7.40 di mercoledì 19 maggio, le immagini che state vedendo arrivano in diretta da San Giovanni, dove andremo tra pochissimo con le nostre telecamere, dove entraremo con Rosario Carello in una sorta di stazione per il lavoro viandante, un rifugio per i non tutelati, di che cosa si tratta? Ne parliamo tra pochissimo, lo scopriremo insieme. Intanto il buongiorno a voi con il sorriso. E per il momento è tutto, a te Roberta. Grazie Antonella, noi ci vediamo dopo per eventuali aggiornamenti, intanto ritorniamo in diretta a San Giovanni. Lo abbiamo definito un rifugio per i non tutelati, si tratta forse della prima esperienza del genere nel nostro territorio, di che cosa si tratta, come funziona, nei dettagli lo chiediamo a Rosario Carello. Buongiorno Rosario. Buongiorno Roberta, buongiorno a tutti. Prima di entrare nel vivo vi faccio vedere dove sono esattamente. Via San Giovanni in Laterano vuol dire che lì spunta quasi come fosse un palazzo normale, nella normalità della bellezza di Roma, il Colosseo. Però dicevi molto bene, cara Roberta, sì, siamo nel primo rifugio, nella prima casa, che un sindacato in Italia ha fatto la CISL, per quei lavoratori che non hanno un ufficio. Quindi i fattorini, i rider, i driver, quelli che ci portano a casa la pizza, le cose che ordiniamo online. E Marino Massuccia è il segretario della FIT CISL Lazio, segretario generale, che ha avuto un'idea. Esattamente qui un fattorino, un driver, che non sa dove andare durante il giorno, per vari motivi, cosa trova? Innanzitutto un luogo dove si può ristorare, e ristorare significa anche le cose strumentali, quindi ricaricare il telefonino, anche le cose di base, come per esempio un'attività che sembra comune, quella di andare al bagno, perché i fattorini, sembra strano, nel 2021 non hanno neanche la possibilità di andare in bagno. Noi stiamo parlando, Marino Massucci, di persone che stanno per esempio tutto il giorno d'inverno su un motorino o su una bicicletta, e quindi hanno bisogno, se hanno un secondo di pausa, o se devono cercare questa pausa, di un punto come questo. Qui ci sono scritti i servizi offerti, quindi spazio riders, connettiti, informati, ricaricati, orientamento sul lavoro, e ne parleremo, assistenza psico-lavorativa, assistenza micro-credito, c'è anche la possibilità della TAD per i figli, delle partiere, diciamo, che ne hanno necessità, ma come è venuta questa idea? È vero che voi avete detto basta con un sindacato che attende il lavoratore e noi andiamo incontro a loro? Sì, noi lo definiamo un sindacato di prossimità, quello che va incontro ai lavoratori, quindi non un sindacato classico che aspetta e fa tutele e tutela solo i diritti. Noi pensiamo che devono andare incontro alle esigenze, anche quelle nuove, quelle di questi nuovi lavori che sono fragili, dove i diritti sono poco tutelati, e quindi una sorta di rifugio, come è stato detto. Questa è la critica che viene fatta al sindacato oggi, di essere distante dai problemi, la CISL, la FIT CISL ha perfettamente capito, avendo questo posto. Entriamo allora in questo rifugio dove troviamo proprio un rider, no? Elio Sampatini, lei cosa porta nelle nostre case? Soprattutto beni alimentari, diciamo. Cos'è questo posto allora per uno come lei? Per me intanto diciamo che rappresenta uno spazio fisico con interazione umana, che per lavori come il nostro, a mio modesto parere, è fondamentale. Non ci siete abituati? Assolutamente no. Abbiamo detto che qui c'è anche lo psicologo, la possibilità di risolvere da quel punto di vista i tanti problemi del lavoro di oggi, allora tra poco, Roberta, ripartiamo proprio da qui con lo psicologo che farà assistenza ai lavoratori. Da questa stazione lavoro per chi non ha un ufficio, ritorniamo tra poco. Che cosa è possibile fare? Com'è possibile supportare i lavoratori? Sì, Roberta, eccomi qui, mi trovo davanti alla stazione lavoro, la prima casa, il primo rifugio che un sindacato ha aperto, l'ha fatto la CIS, trasporti del Lazio, su strada per quei lavoratori che non hanno un ufficio. Adesso Alessandro Romani entra nella stazione lavoro della CIS e vi fa vedere delle poltroncine dove da lunedì scorso è iniziata la consulenza psicologica. Io sono con Francesco D'Ambrosio che insegna a Toro Vergata, psicologo e psicoterapeuta. Ecco, qui si va, vedete anche l'attenzione al dettaglio che la CIS, FIT e CIS Lazio ha avuto. Allora, professore, intanto io le chiedo, ma questa pandemia come ci ha cambiato tutti noi lavoratori e di tutte le categorie? Beh, diciamo che ha cambiato tantissimo, sia i nostri modi di rapportarci agli altri, i nostri modi di relazionarci, ma anche dal punto di vista lavorativo. E pertanto l'intento di questo, diciamo, spazio d'ascolto all'interno comunque di questa azione lavoro è dovuta proprio a questo, al fatto comunque di far sì che curare il lavoro significa per intercicura dei lavoratori, delle lavoratrici, dei loro familiari e non solo, ovviamente, anche dei più fragili. Lei prima diceva il benessere del lavoratore, che bello, ma che cos'è il benessere? Il benessere del lavoratore significa fare in modo che ci sia la persona al centro del lavoro, questo è importante, in quanto la persona è un essere umano, come essere umano è un sia soggettivo, ed è stato visto che valorizzare la soggettività all'interno di un ambiente lavorativo, quindi valorizzare le competenze, le risorse del lavoratore, questo produce non soltanto benessere lavorativo, ma per di più rende anche il lavoratore più attivo e ovviamente lavora meglio. Non c'è dubbio. Allora, io voglio farvi adesso parlare con Alessio Donati, proprio per questo tema qui, il lavoratore che si sente ben valorizzato lavora meglio, Alessio Donati lavora ad Amazon, lavora a Passo Corese, è uno dei pochissimi delegati sindacali in Italia, lui è per la CISL, ad Amazon, com'è fare il sindacalista ad Amazon? Non è semplice, visto che ci portiamo dietro sempre questa idea del sindacato della paura del sindacato, di avvicinarci al sindacato, quando… Non ti dicono che lei è coraggioso, eh? Grazie, apprezzo. Il fatto è che non bisogna aver paura di avvicinarsi al sindacato, anche perché in una realtà come questa di Amazon… Ci sono pressioni? Non è che ci sono pressioni, però la gente pensa a paura delle ripercussioni che, ma detta mia, insomma, non ce ne sono. Comunque, loro, loro in particolar modo ad Amazon, sono veramente la frontiera del sindacato, hanno dovuto addirittura ricorrere per essere riconosciuti in tribunale. Chiudiamo con Fressi, Fressi Osorio, è una rider, cosa ha trovato qui? Eh, un ottimo luogo di… dove chiedere aiuto, un'assistenza o pratiche di qualche documento. Anche per la lingua italiana. Chiudiamo, chiudiamo, chiudiamo. Allora da qui chiudiamo, vi dico soltanto che qui c'era un negozio di pelletteria, adesso paga l'affitto la Cisla, anche questo è un segno. Grazie. A voi, un'ultima ora, Antonella.